Un luogo soleggiato, previsioni spaventose, emerge un terribile segreto. Gli estratti da un posto al sole sono terrificanti. I fan attendono con ansia le rivelazioni di un terribile segreto e i risultati sul sito web mostrano che A Place in the Sun è una delle soap opera più popolari in televisione. Telenovela, trasmessa per la prima volta nel 1996, è uno dei film più antichi prodotti in Italia. Le vicende ruotano attorno a una serie di buonarie famiglie napoletane, fatte di cospirazioni, segreti e problemi che le persone affrontano ogni giorno. Gli spettatori continuano a seguire con entusiasmo le vicende della telenovela di Rai 3 e la prossima settimana si preannuncia ricca di intriganti speciali. Gli sviluppi dal 5 all'8 giugno hanno svelato che il doloroso segreto di Luca De Santis stava per essere svelato. Tuttavia, il 9 giugno non ci saranno puntate a causa del palinsesto sportivo. Cosa dice l'anteprima di Un posto al sole il ritorno di Luca interpretato da Luigi Di Fiore sta facendo preoccupare i tifosi per la possibilità che contragga un grave malore. Giulia non ha il coraggio di confessarsi a Luca, mentre Nunzio e Franco preparano una sorpresa per Otello. Alberto cerca di riconquistare Diana, mentre Clara attira l'attenzione del famigerato Edoardo Sabiese. Attraverso gli episodi, è possibile che l'uomo abbia sfruttato la difficoltà e la vulnerabilità di Clara per trarne profitto. Intanto Ornella si accorgerà che qualcosa non va tra Viola ed Eugenio, e quest'ultimo prenderà decisioni importanti per la loro carriera professionale. Renato e Raffaele discuteranno delle capacità motorie di Otello, mentre Filippo sarà costretto a cambiare la sua offerta di lavoro per accontentare Viola. Durante la prossima settimana di Un posto al sole, Michele deciderà di confessare a Luca di aver trovato nella spazzatura il suo pacchetto di pillole. Intanto Clara troverà un lavoro mentre Rosa si renderà conto di essere molto diversa dalla sua. Manuela, frustrata con Nico, inizierà a vedere Costabile sotto una luce diversa, così come l'avvocato Poggi capirà di amarla. Come si evolverà la situazione tra i due ex fidanzati? Luca condividerà i suoi segreti con Michele mentre affronta il suo primo giorno da direttore sanitario in ospedale. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Ida dovrà lasciare Napoli grazie al diabolico piano di Lara. Ma il segreto di Martinelli è ancora al sicuro? Riccardo si vendicherà di Ornella, mentre Giulia avrà un incontro interessante. L'affiatamento tra Manuela e Costabile crescerà, mentre Nico la troverà cattiva. La prossima settimana Upas non andrà in onda venerdì 9, ma andrà in onda una doppia puntata venerdì 8. Non perderti un posto al sole dall'onedì al venerdì verso le 20.45 su Rai 3, per aggiornarti sulle novità.